Io sono Fabiana, ho 24 anni, sono la figlia del titolare, volevo un po' illustrare la nostra azienda che è nata negli anni 70, il pioniere è stato mio nonno, Aquilino Finocchio, che si è ispirato all'attività del nonno Inizio questa attività con appena 35 alveari, ora abbiamo circa 1000 alveari che spostiamo in varie zone d'Italia e pratichiamo il nomadismo, l'antica arte proprio di questo settore quindi spostiamo queste alveari in varie zone d'Italia e poi con molta attenzione e cura cerchiamo di non rovinare quello che le api fanno Il prodotto principe è il miele, abbiamo circa 21 tipi di miele mieli classici ma anche diciamo mieli particolari come il coriandolo, la marruca il miele di melata, di bosco e poi ci sono i mieli aromatizzati Qui c'è un po' tutte le fioriture che noi facciamo, una piccola galleria fotografica all'inizio c'è la foto di famiglia, che me la famiglia è la prima cosa e poi viene tutto il resto c'è la fioritura del rosmarino, poi c'è il ciliegio, c'è la caccia, la sulla, il millefiori, il millefiori delle montagne d'Abruzzo e a seguire tutti gli altri I nostri prodotti sono tutti di alta qualità, sono circa 15 anni che riceviamo importanti riconoscimenti sono tre anni consecutivi che riceviamo riconoscimenti per lineare di arancio Facciamo anche altre attività come la fattoria didattica quindi accogliamo gruppi di scolarische o gruppi di persone in azienda Nella passata stagione abbiamo ricevuto circa 1000 alunni è davvero interessante l'attività che si va a svolgere perché rendiamo protagonisti proprio i bambini Grazie a tutti